Buonasera, ben ritrovati a Confronti, il programma realizzato in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Consiglio Provinciale di Trento che ogni settimana mette a confronto un membro della maggioranza e uno della minoranza proprio nell'Assemblea Trentina. Allora vi presento gli ospiti di questa sera a partire dalla maggioranza con Ivano Iob, consigliere provinciale del gruppo Misto, iscritto a Coraggio Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera e un saluto ai telespettatori. Buonasera anche per la minoranza ad Alessandro Livi, consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino. Buonasera. Allora, iniziamo con i lavori del Consiglio che questa settimana è tornato a riunirsi e tra l'altro ha approvato il disegno di legge 62 sulle grandi concessioni idroelettriche. Nel servizio David Neri ci fa il punto della situazione e poi ne parliamo insieme. Sospendere la scadenza delle concessioni idroelettriche fissata per il 31 dicembre del 2024 con una proroga di 5 anni. È questo lo scopo del disegno di legge della Giunta provinciale approvato dal Consiglio con 19 voti favorevoli, 9 astensioni e 2 no. 19 in tutto le concessioni per una trentina di impianti. Uno stop subordinato alla presentazione di piani industriali di investimento da parte dei concessionari. La provincia, in questo modo, punta da un lato ad ammodernare gli impianti, migliorandone l'efficienza con l'ambizione di incrementare la capacità di stoccaggio dell'energia e la potenza installata. Dall'altro a ottenere il pagamento di un canone aggiuntivo, il cui provento verrà utilizzato per sostenere i costi dei consumi energetici provinciali. Soldi che si andrebbero a sommare ai circa 100 milioni di euro che vengono versati annualmente. Il tema però è a rischio di impugnazione da parte del governo e, aggiungono i sindacati, anche da parte dei privati che volessero partecipare alle future gare. Per la maggioranza il rischio vale la candela perché non c'è tempo da perdere, anche a fronte del drammatico caro energia in atto. Da parte delle opposizioni non si contestano tanto le finalità del disegno di legge quanto il modo scelto per raggiungere questi obiettivi. Tra le proposte arrivate dalla minoranza c'è anche quella di una modifica dell'articolo 13 dello Statuto, che rafforza la competenza sulla gestione del demanio idrico della provincia, anche in chiave di un'intesa con lo Stato. Allora, sono stati 19 i voti a favore, 9 i non partecipanti al voto, 2 i no. Iob, lei pur facendo parte della maggioranza, ha votato no, così come De Gasperi che è all'opposizione. Allora ci spiega perché è contro questo disegno di legge. Allora, grazie della domanda, sì, i dati da lei comunicati agli ascoltatori sono veri. Io, assieme al collega De Gasperi, ho votato contro. Questo disegno di legge è di buono, secondo ciò che io ho letto, studiato, visto, confrontato e valutato anche in Commissione, a quando i lavori di ammodernamento e comunque di rinnovo degli impianti saranno effettuati, saranno utilizzati e non sappiamo quando saranno perché oggi dire che un investimento, una programmazione anche su queste grandi centrali possa avere una data certa, nessuno ha potuto rispondere con certezza a questa data, quindi di buono a che con la stessa quantità di acqua ci si augura e il prospetto, ciò che è stato prospettato e comunicato all'Aula Consigliare, sarà una maggiore produzione di energia elettrica, quindi un miglioramento dell'impianto stesso. Un miglioramento dell'impianto, degli impianti, delle diverse dighe, delle diverse centrali, che comunque verranno riconosciuti al momento della scadenza, che sia rinnovata poi per la vittoria dell'asta o che sia una scadenza che poi passerà ad un altro gestore. Quello che voglio dire, questa è la cosa buona, ma tutto il resto, secondo ciò che abbiamo anche discorso in Commissione, non va poi a portare effettivi risultati sulla bolletta, poi non so se parleremo anche degli aiuti, ma con le centrali sul nostro territorio scelte di questo tipo sono, secondo me, superate, sono scelte che andavano fatte prima. Noi abbiamo una grande percentuale di centrali che sono, tra virgolette, anche gestite con una gran parte della compagine, diciamo, sociale, quindi di proprietà della provincia, dei comuni di Trento, dei comuni di Riveto e di altri comuni. Bisognava intervenire prima, cioè io apprezzo lo sforzo del Vicepresidente, pur criticandone il risultato, ma apprezzo solo lo sforzo perché qui sono anni che si sta perdendo tempo, quindi il mio voto contrario è proprio per far presente ai Trentini che bisogna cambiare il modo di fare. Abbiamo sbagliato, i politici devono imparare a dire, sì abbiamo sbagliato, bisogna cambiare il modo. Credo che questa proroga... Cioè lei dice che non è altro che un prendere ulteriore tempo senza poi andare nell'efficacia delle decisioni, soprattutto in momenti così difficili. Ci è stato detto che l'energia viene venduta con uno o due anni di anticipo da alcune aziende partecipate dalla provincia, da questi comuni sopracitati, quindi mi viene da dire almeno l'energia, almeno una parte dell'energia nei periodi, perché va riconosciuto che dicembre, gennaio, febbraio se ci sono meno 10 in quota non c'è una grande quantità di acqua, comunque nei periodi di produzione se un po' di corrente può essere utilizzata sul territorio, venduta, scambiata tra società che lavorano e che sfruttano l'acqua delle nostre valli e società che poi vendono sul nostro territorio, per quanto ho studiato e capito in questo periodo, perché non dare un'agevolazione, un prezzo un po' più contenuto e un aiuto ai cittadini trentini. L'ho chiesto, la risposta è stata che si può fare, quindi se si può fare organizziamoci come parte politica per stimolare questi obiettivi, perché altrimenti passa che le società partecipate dalla provincia diventano società esclusivamente private, allora bisogna, si potrebbe anche decidere di lavorare per società completamente pubbliche, come per esempio Alperia e Nalto Adige, oppure si potrebbe lavorare per migliorare i rendimenti proprio economici sul territorio. Su questo poi torneremo anche quando parleremo della questione delle bollette. Olivi, certo è che la partita delle centrali idroelettriche è una partita molto grande, non solo per quanto riguarda i numeri in ballo, ma anche perché è uno dei cardini anche dell'autonomia trentina. è, lo abbiamo detto, un disegno di legge che rischia di essere impugnato, tanto che voi come opposizione avete anche chiesto di lavorare invece proprio sull'articolo dello statuto che va a regolare appunto quella che è l'autonomia sulle centrali idroelettriche per andare proprio a rafforzare il potere della provincia ed evitare poi che tutto questo lavoro non finisca per essere reso nullo da parte dello Stato. Sì, è così. Io sono il primo firmatario di questo disegno di legge che è stato sottoscritto da molte forze politiche dell'opposizione muove dal presupposto che bisogna agire a monte del processo quindi rafforzare l'autonomia statutaria farlo attraverso un percorso cooperativo pattizio con lo Stato coinvolgendo la provincia di Bolzano che è vero che ha fatto altre scelte ma che non ha nulla da temere per un riallineamento anche della provincia di Trento su una durata più lunga delle attuali concessioni abbiamo inserito in questa proposta di modifica dello statuto anche un processo graduale per arrivare, noi pensiamo che sia giusto così, a restituire nelle mani pubbliche della regia pubblica l'idroelettrico ci è stato detto che è troppo complicato, che è troppo difficile non è vero, in realtà servirebbe solo un'intesa con lo Stato perché poi la modifica dell'articolo 13 è possibile attuarla con una semplice legge ordinaria dello Stato quindi una norma inserita per capirci nella prossima manovra finanziaria e invece la Giunta perseverando a mio avviso in una condotta che è solo probabilmente tesa a mostrare i muscoli sapendo però che si rischia di andare a cozzare contro un muro ha preferito la prova di forza non dimentichiamoci che questo Consiglio Provinciale per ben due volte è stato gravemente sanzionato una volta dalla Corte Costituzionale la seconda volta da una lettera del Presidente Draghi che semplicemente ha invitato la Giunta ad abrogare in fretta e in furia una cozzaglia di norme che non facevano altro sostanzialmente che introdurre deroghe e proroghe senza un vero disegno diciamo riformatore del settore dell'energia e quindi noi abbiamo non abbiamo partecipato dal voto questa è una proposta che abbiamo condiviso proprio perché e chiudo abbiamo assistito a due giornate surreali il Vice Presidente Tonina riconosceva l'alto rischio di impugnativa però ci diceva ma non preoccupatevi in queste ore il Presidente Fogatti è a Roma che sta parlando con i Ministri abbiamo detto bene è giusto è il dovere di un Presidente noi siamo lì con lui se c'è uno spazio reale per poter ottenere questo prolungamento solo che non abbiamo avuto una risposta e quindi abbiamo deciso di buttare avanti la palla e vedere quello che succede non è credo un modo a mio avviso serio e rispettoso neanche delle prorogative dell'Aula e per questo augurandomi voglio dire che ci siano degli spazi possibili temo temo però che senza una forte intesa preventiva con lo Stato che riconosca ed ecco perché della nostra proposta il fatto che le province autonome di Trento e Bolzano in ragione dell'apporto 10% dell'idroelettrico sul quantitativo nazionale possono avere una strada diciamo diversa che noi abbiamo proposto avvenga attraverso una regia diciamo regionale certo tanto che voi avevate chiesto insomma di sospendere il voto finché non arrivavano insomma notizie di una certa concretezza da Roma torniamo sulle bollette Iob la terza commissione che peraltro lei presiede ha dato parere positivo con tre voti favorevoli la sua astensione e il no di due rappresentanti dell'opposizione alla delibera sulla preadozione del bonus energia da 180 euro in sostanza una delle misure previste dalla giunta provinciale per cercare di andare a dare ossigeno alle famiglie proprio gravate dal caro bollette questo appunto è un una tantum che ci sarà nella 2023 è stato deciso di far sì che questo bonus arrivi a chi ha un imponibile lordo inferiore a 50.000 euro e c'è stato anche il dibattito sul fatto che invece non si sono seguiti criteri come ad esempio l'ISE lei si è stenuto e ho visto anche che poi nelle dichiarazioni di voto ha detto mi auguro anche che ci sia chi lo andrà a dare indietro questo bonus potremmo parlarne per ore no ecco siccome abbiamo ancora 10 minuti altrimenti non riusciamo a parlare di sanità facciamo un minuto e mezzo per lei cercherò di essere breve però però effettivamente è vero che quando ci sono dei momenti di difficoltà si deve cercare di aiutare più famiglie più persone possibili però è indubbio che questo questo contributo questo aiuto che poi è anche complicato perché alla fine cosa succede saranno le società che vendono che mandano le bollette quindi le società in bolletta faranno lo sconto la provincia anticiperà i soldi è abbastanza complicato e c'è e c'è del lavoro da fare però 180 euro per una famiglia che ha bisogno mi creda io sul territorio ho molti conoscenti molte persone che che chiedono anche aiuto e chiedono una certa vicinanza alla politica 180 euro cambia per chi non ne ha ma cambia poco mentre 180 euro per alcune famiglie che invece hanno fortunatamente dei redditi sicuri dei redditi certi o comunque delle situazioni patrimoniali economiche di liquidità solide i 180 euro non servono a nulla quindi in entrambi i casi non cambia la situazione sul territorio trentino io ero più nel mio ragionamento mi sono anche espresso in commissione ero più per aiutare magari quelle famiglie e quelle situazioni con più difficoltà doveva essere ancora più mirato io l'avrei fatto così poi consigliere consiglio legifera ma che amministra la provincia il parere peraltro il parere della commissione non è vincolante io credo che si tratti di uno dei provvedimenti più iniqui di cui io abbia avuto diciamo esperienza di conoscere negli ultimi anni ha ragione IOP su questo assolutamente 180 euro sono insufficienti per chi ha molto bisogno di aiuto in questo momento sono irrisori e superflui per chi in realtà non ne ha bisogno quindi avevamo proposto di utilizzare il calcolo ICEF o comunque meccanismi in cui si dà di più a chi ha meno molto semplice credo anche perché la crisi non colpisce tutti uguali dare 180 euro a tutti significa esattamente fare una considerazione arrovesciata rispetto alla realtà che il caro energia colpisce la famiglia ricca e le famiglie povere nella stessa maniera non è così non capisco per quale motivo questa amministrazione questa giunta abbia a volte utilizzato l'ICEF quindi l'indicatore che misura la condizione economica nucleofenare spesso evidentemente in termini escludenti e invece quando è da usare come in questo caso per creare equità non lo fa io credo che sia tra l'altro sono 40 milioni di euro 48 quindi vuol dire tanti soldi tutto sommato quando si polverizzano così le risorse come buttarle via chiarissimo con 40 milioni un 6-7% di dolomiti energia si sarebbe potuto comprare qualche anno fa a proposito di tornare a parlare del pubblico recuperare la capacità insomma su questo sull'argomento energia siete praticamente d'accordo anche perché insomma io ho un po' una voce fuori dal coro all'interno della maggioranza ho sgridato un po' i colleghi di minoranza in aula mi sarei aspettato però ci sono degli equilibri anche storici politici che vanno un po' portati in aula a me è dispiaciuto votare contro perché è normale essendo in maggioranza però i cittadini trentini devono anche avere fiducia in queste in queste contrarietà anche all'interno della maggioranza perché avremo davanti abbiamo in arrivo anni difficili e quindi serviranno anche interventi ma soprattutto amministratori capaci anche di andare contro il sistema chiaro e sono periodi difficili anche per quanto riguarda la sanità abbiamo attraversato una settimana in cui i sindacati dei medici si sono fatti sentire poi c'è stata anche la presa di posizione della provincia che ha detto arriveranno i soldi anche per quello che è il rinnovo del contratto di lavoro e un altro capitolo della sanità è quello dell'ospedale di Cavalese con le audizioni che hanno trovato anche le parole forti del sindaco di Cavalese ma iniziamo a parlare Olivi per quanto riguarda i medici e appunto il problema certo c'è un problema che riguarda tutta Italia la carenza dei medici aggravata anche se vogliamo dal covid che ha messo sotto pressione ancora di più chi negli ospedali e non solo lavora prego è un problema generale sarebbe assolutamente diciamo sbagliato focalizzarci solo sulla patologia che pure ci colpisce anche come sistema trentino è però vero che in questi ultimi 4-5 anni la sanità trentina ha perso medici tanti non è vero che c'è una migrazione solo dal pubblico al privato ahimè c'è una migrazione dal pubblico al pubblico molti medici degli nostri ospedali stanno scegliendo di andare ad operare fuori provincia perché ci sono condizioni migliori dal punto di vista del contesto e perché per arrivare alla protesta legittima a mio avviso sacrosanta dei medici perché qui siamo in ritardo con l'aggiornamento del contratto e se vogliamo essere schietti non c'è attrattività di un sistema sanitario che non passi anche attraverso il valorizzare economicamente un mestiere così difficile così responsabilizzante come quello oggi di chi opera nel sistema sanitario dai medici agli infermieri che siano e quindi sentire in queste ore che dopo 4 anni che c'è lo stallo totale forse ci potrebbero essere dei soldi che potevano essere messi sul contratto 3 anni fa facendo una trattativa serrata come è giusto fare solo perché adesso in cambio si dice medici dovete però essere pronti a fronte di più soldi che non sono più soldi è un adeguamento economico al nazionale ed ecco perché la piattaforma trentina oggi è su una posizione sostanzialmente arretrata in cambio della flessibilità cosa vuol dire flessibilità? vuol dire mantenere un sistema ospedaliero in cui vogliamo fare tutto dappertutto? vuol dire dare ai cittadini questo messaggio i medici non sono disponibili oggi a operare in un sistema rete? io non credo che sia così credo anch'io che ci voglia un equilibrio tra alcuni hub fortemente caratterizzati per qualità eccellenza che ci voglia un sistema anche diciamo di presidio di territorio ma la questione dell'addiamento del contratto e quindi della valorizzazione oggi delle competenze passa attraverso una scelta di campo che è una scelta che è stata tenuta bloccata forse perché voglio dire siamo molto vicini ecco allo snodo elettorale e quindi lanciare questo messaggio abbiamo convinto i medici a prendere la valigia in mano e a poter andare in tutti gli ospedali secondo i desiderata politici della giunta mi sembra una cosa piuttosto grave io condivide questa lettura in parte in parte perché abbiamo diversi punti da focalizzare 45 mila medici sono quelli che mancano oggi a livello nazionale la cifra più o meno è questa quindi non è un problema solo di numeri cioè personalmente non sono convinto che manchino i medici sono più convinto che manchi una certa organizzazione perché quando io sento anche oggi venendo qui un amico mi ha chiamato dicendomi ora che è successo questo è successo quello all'interno dell'azienda sanitaria poi ci sono anche molte lamentele quello che voglio dire è questo quando non si trova disponibilità o risposta nel sistema pubblico si viene dirottati sul sistema privato quindi i medici quelli sono non è che saltano fuori come i funghi questo è un problema che c'è oggi c'era tre anni fa c'era dieci anni fa e c'era quindici o vent'anni fa sono un po' di anni che c'è questo questo cambiamento all'interno dell'azienda sanitaria trentina ma nazionale tutta e soprattutto soprattutto vediamo che non si riesce a trovare un accordo io sarà perché di carattere nella mia vita ho sempre cercato di trovare l'accordo di trovare la soluzione la nostra la nostra qualità di azienda sanitaria è sempre stata riconosciuta è cambiato un po' anche il paziente io mi ricordo qualche anno fa si andava in ospedale si chiedeva quasi permesso per entrare adesso prima di entrare al pronto soccorso si chiama l'avvocato perché ci sarà sicuramente da lamentarsi è un mondo che va rivisto a 360 gradi cioè la situazione è veramente difficile e questi problemi non li abbiamo solo in provincia di Trento li abbiamo anche in provincia di Borzano li abbiamo un po' in tutte le regioni d'Italia però ecco mi sento di dare fiducia almeno è necessario secondo lei a questo punto chiedere la flessibilità ai medici anche sui cambi di sede o sul operare su sedi diverse glielo chiedo proprio brevissimamente perché poi volevo chiedere una cosa sull'ospedale di Cavalese per i rapporti per ciò che ho saputo e sentito sul territorio credo che si possa percorrere anche questa soluzione naturalmente con i giusti accordi chiaro allora per quanto riguarda l'ospedale di Cavalese in quarta commissione ci sono state le consultazioni ha parlato il presidente Fugati poi hanno parlato anche gli esponenti del territorio in sostanza per riassumere c'era un progetto 2018 che prevedeva la ristrutturazione dell'ospedale esistente poi è saltato fuori un progetto privato che prevede la realizzazione in un'area che invece è a valle tuttora di verde agricolo su questo progetto la giunta di recente ha dimostrato l'interesse pubblico ma in qualche modo in queste audizioni ad esempio il sindaco di Cavalese ha detto che la provincia non ha avuto una posizione neutra in qualche modo è andata anche in precedenza a sostenere questo secondo progetto ecco in sostanza l'accusa principale è quella che sia mancata la trasparenza abbiamo solamente due minuti scarsi un commento a lei o poi ho riassunto gli assunti sono un po' troppo difficili velocissimo dico che io ero in Lega prima che arrivasse anche il Presidente Fugatti per quanto lo conosco e credo di conoscerlo bene non andrà a imporre un ospedale senza avere la voglia la certezza che il territorio richieda un nuovo ospedale che è quello che ha detto il Presidente Fugatti l'ha detto lui mi fa piacere però ecco questa è una certezza quindi se il territorio della Val di Fiemme della Val di Fas della Val di Ciembra richiederanno un ospedale nuovo io personalmente sarei per la terza soluzione ma questa me la tengo per i prossimi mesi esiste una terza ma quella è per pochi più avanti è chiaro che è mancata la trasparenza non si è mai visto che un progetto di questo tipo nasce dalla proposta di un privato abbiamo detto prima nel tema della sanità è il tema che per eccellenza deve avere un governo sostanzialmente pianificatorio e quindi c'è molta opacità ci sono interessi che si stanno mescolando non tutti ispirati alla tutela del bene pubblico la sanità trentina ha bisogno di tante cose ma non credo di muri o meglio Santa Chiara sappiamo in che condizioni è proviamo a immaginare invece che cosa vogliamo tra dieci anni che ci sia a Cavalese che ci sia a Cles che ci sia a Tione cioè qual è il senso di quelle strutture una marea di milioni per soddisfare gli appetiti di qualche operatore privato mi sembra che non siano oggi quello che ci chiede la comunità e con le parole di Olivi termina questa puntata di confronto io ringrazio Alessandro Olivi consigliere provinciale Partito Democratico grazie anche a Ivano Iobo consigliere provinciale del gruppo misto buonasera buonasera grazie a voi per averci seguito noi ci vediamo la prossima settimana arrivederci